Oggi l'Associazione Codici presenta questo nuovo servizio che mettete a disposizione dei vostri associati della cittadinanza, lo sportello Covid-19. Sì, diciamo che l'Associazione di consumatori ed utenti codici ha tra i propri obiettivi quello della tutela del diritto alla salute e quindi proprio per questo abbiamo deciso di creare lo sportello Covid-19 che si occuperà di tutti i casi di mala sanità e di disfunzioni legate al mancato funzionamento delle strutture sanitarie. In particolare lo sportello assisterà gratuitamente tutte quelle persone che hanno avuto un danno da Covid e che vogliono ottenere un risarcimento del danno, cioè tutte quelle persone che erano ricoverate per altre patologie ed hanno poi contratto il Covid durante il ricovero nelle strutture ospedaliere o nell'RSA. Ci occuperemo anche dei danni collaterali, cioè quelli legati alla mancata assistenza sanitaria, al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni o ai mancati ricoveri. Ad oggi lo sportello ha già ricevuto numerose denunce da parte di cittadini che erano ricoverati per altre patologie ed hanno poi contratto il Covid durante il ricovero. Naturalmente la pandemia ha messo in evidenza luce ed ombre del nostro sistema sanitario evidenziando da un lato l'abnegazione, la professionalità, la competenza di medici, infermieri ed operatori sanitari e dall'altro le carenze delle strutture sanitarie dovute sia al mancato collegamento tra state e regioni e sia all'amiopia di un potere politico che ha trasformato dei luoghi di prevenzione e cura, quali ospedali e RSA, in luoghi di contagio. Quindi invitiamo tutti i cittadini che hanno avuto danni da Covid e che vogliono ottenere un risarcimento dei danni a rivolgersi al nostro ufficio qui a Pescara in via Carlo Alberto dalla Chiesa numero 15 che è aperto tutti i giorni da lunedì al venerdì chiamando il numero 08577211.